John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video come al solito pieno di euforia Benvenuti in questo nuovo ottavo di finale E attenzione perché ve li presento in ordine di come li vedo io qui vicino a me Menzo! Ciao a tutti ragazzi, io sono Menzo, un onore essere arrivato fino agli ottavi Non mi sembra di aver fatto un turno precedente ma sono comunque orgoglioso di questo traguardo Quindi ragazzi, grazie per chi mi supporta Ti faccio i miei grandi complimenti per essere arrivato fin qui Allora sotto di me Lionel Andres Marconi Eccoci, buongiorno, buongiorno Simo, poi ti insegno a usare in diaframma Comunque volevo già fare i complimenti a Menzo per il quarto di finale Io voglio onorare la mia tradizione e quindi fare 3 su 3 Dopo essere uscito due volte con Kinosci, uscirò anche con Menzo In questo giorno tanto speciale Potresti andare avanti fin quando non incontri Kinosci e poi uscire Non ci avevo pensato a questa cosa perché non pensavo che potessi anche vincere io Secondo me oggi si potrebbe verificare che entrambi usciamo Eh lo so, anche secondo me, tipo 0-0 e brutte risposte che insomma ci cacciano Non so neanche che gioco sia, adesso ce lo spiega il buon Adesso ve lo spiego in due parole Prima di iniziare vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate sia il canale di Menzo Che il canale di Federico Marconi Quindi date un'occhiata ai contenuti Se i contenuti vi interessano vi potete iscrivere Altrimenti no Fate la scelta giusta ragazzi Fate la scelta giusta Iscrivetevi al canale di Menzo Ecco, bravi, sono d'accordo E vi ricordo anche che in questo momento sul mio profilo Instagram Simone Siquel, trattino basso official Sta uscendo la grafica dei due prossimi sfidanti con la data di quando uscirà il video Quindi se siete curiosi andate a dare un'occhiata Detto questo partiamo subito Che cosa andremo a fare? Oggi porto in Italia Football Connect Che cos'è? Qualcuno di voi sa cos'è Football Connect? No, come prima Quattro calciatori Quattro facce di calciatori Che hanno tutti militato nella stessa squadra Non tutti insieme Ma tutti hanno militato nella stessa squadra E voi dovete capire qual è la squadra che accomuna questi quattro calciatori Ora, com'è la regola? Voi vedrete una faccia Una sola Potreste Con quattro punti diversi Esatto Potreste rischiare Facciamo conto Vi faccio un esempio Parte Menzo Vede una faccia Lui può dire La squadra è quella Se sbaglia Tocca Marconi Per tre punti Gli spawna un'altra faccia Se sbaglia Tocca a Menzo Gli spawna un'altra faccia Per due punti Però Menzo Che parte Può anche decidere Di non rischiare E dire Dammi una seconda faccia Tre punti Dammi una terza faccia Due punti Dammi una quarta faccia Un punto E poi provare ad indovinare Quindi Se te la giochi mentalmente bene È probabile Che tu L'altro possa anche Non dire mai nulla Dici Ci si può ancora Tirare indietro? No Ormai sei in gioco Bene Chi vuole iniziare di voi? Io 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 rischierò sempre Sempre Non mi interessa Rischierò sempre Mi hai convinto Parti tu Ma è impossibile Vabbè vi faccio vedere La prima faccia Andanovic A questo punto Io non posso mai credere Nella vita Io non ci credo mai Nella vita Che tu Al primo turno Metti Inter Non posso crederci Neanche che tu Vada a mettere Dov'è che ha giocato? A Triestina Nel Vicenza Andanovic Io dico Udinese Quindi tu rischi subito E dici Udinese Sì Io ti faccio vedere La seconda faccia Perché tanto in ogni caso Poi toccherebbe A Marconi La seconda faccia È di Natale Ma la risposta Non è Udinese Fede tocca a te Per tre punti È un infame Eh lo so Per tre punti Io Sfrutto un assist di Menzo Non ricordando La carriera di questi due Mi butto sul Vicenza Ti butti sul Vicenza Ti faccio vedere La terza faccia Che in questo caso È quella di Spinazzola E ti dico che Spinazzola Non ha mai giocato Nel Vicenza Quindi sbagliato Due punti per Menzo Vai Cioè per farli Prova Eh sì Ma io non mi ricordo Quale è stata Quale è stata La prima Il primo team Di Andano Eh non me lo ricordo Perché io mi ricordo Che ha una buona Un buon settore giovanile L'Udinese L'ho preso Ti dico più che altro Se vuoi provare a vedere Puoi anche chiedere La quarta faccia Non lo so Come ti pare a te Per un punto Cioè sta cosa Sta quarta faccia Ormai tanto il danno L'abbiamo fatto Ahmed Traoré Scusami ma Sassuolo da chi l'ha preso Ahmed Traoré Ti è partito il minuto di tempo E devi rispondere Prima della scadenza Del minuto Non dopo Io in realtà Un'idea ce l'ho È che non pensavo Che Oddio Cioè Spinazzola e Traoré Li so Li so accomunare In una squadra Andando a memoria Io non mi ricordo Il percorso di Spinazzola Guarda ti dico la verità Io ho Spinazzola Alla Roma Non mi ricordo Ovviamente non posso Non posso più rispondere No tu non puoi più rispondere Ti dico Triestina Non lo so Allora ti dico Stop al tempo È sbagliato Adesso risponderà Federico Ma sono questi sicuramente Certo che sbaglierà Prova Avrei detto Atalanta Sapevo che avrei detto Atalanta Ah ti dico che Traoré Non è quel Traoré A me Traoré È quello che è andato dal Born Mutt dal Sassuolo Quello che pensi tu È quello che è andato Non so dove Per un sacco di soldi Allo United Allo United In realtà Di Natale ha giocato all'Empoli All'inizio Traoré esplode con l'Empoli Spinazzola ha giato con l'Empoli Quindi Zero punti per voi Bravi Al primo pack Ricordo sono cinque pack a testa Io l'avevo già spoilerata Insomma La situazione Però non ti fidavi Ci hai comunque fatto L'altra domanda No 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 Io di Natale Lo ricordo con Maglia Udinese E basta Basta Capito Ha giocato a l'Empoli A Vicenza A Vicenza Non ci hanno fatto manco le vacanze Ah non Triestina Treviso 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 No ho sbagliato Sbagliato A Vicenza Ricordo una dichiarazione Anche di Natale Mi dispiace di avere solo una carriera Da donare all'Udinese Però insomma Questa Per questo lo ricordavo Anche lì ecco Andiamo avanti Allora Non vedo l'ora di andare avanti Cesni Tocca a Federico Allora Allora Io vado Vado sull'Arsenal Quindi tu parti immediatamente dall'Arsenal Sì perché non mi aspetto la Roma Capito Però magari Magari adesso mi smentirà il buon mezzo Perché la seconda foto sarà Salah Quindi Ti faccio vedere la seconda foto È Manninger Eh vaffan Come Manninger Oddio potrebbe essere Potrebbe Quindi non è Non è l'Arsenal ovviamente Guarda la terza foto Bentner Eh allora ragazzi Quella lì Che pensi che sia Puoi dirlo che pensi che sia A posto la Juventus Eh no Sai perché te lo puoi dire Perché l'Arsenal O Spina Hanno già tutte e quattro all'Arsenal Hanno già tutte e quattro all'Arsenal Ah ok Infatti Non stavo capendo Cioè Non faceva tutto Marconi Io ero lì Che con la bocca verde Ah già dall'Arsenal Però bravo Bravo Quattro punti per Fede Pack numero due Si parte da mezzo Matteo Ferrari Oddio sembrava Gio Mario No Vabbè me sembrava De Maio Mi sembrava Pensa te De Maio Simone Te dico Roma Che ne so Roma Boh Ti faccio vedere la seconda faccia Che è Romelu Lukaku E perché ridi Ficca Roma Non è la Roma Non è la Roma ragazzi Non è la Roma Fede Non è sicuro L'Inter Dici Inter Ragazzi Ferrari non ha mai giocato all'Inter Dai te prego Faccio vedere la terza faccia Che è per Kroldrup E ti dico che è sbagliato Inter Menzo Eh è il Chelsea Dici il Chelsea tu Quindi Ferrari Non lo so Kroldrup Lukaku Tu dici il Chelsea Io faccio vedere un'altra faccia Che è quella di Samuel Eto'o Perché Fede alzava la mano E poi la ritratta? No 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 Continuo a tenerla alzata Perché io avevo una scelta più esotica Ti dico che è sbagliato il Chelsea Fede per un punto vai Everton Ti ricordi Perché dici Everton? Madonna Mi ricordo Mi ricordo Lukaku all'Everton Mi ricordo E tu all'Everton Si è la carriera lì? No Nell'Angi forse Si è la carriera Si si O forse ha fatto prima Angi E poi Everton Non ricordo Però ci ha giocato Chiaramente non ricordavo Ferrari E l'altro Però Esatto Però Ti avrei detto Schielderup No? È giusto È giusto Everton Bravo Bravo Quinto punto per te Che va La capolista Molto meglio adesso Tonetto Chi è il Ken Italiano? Ma chi è questo? Tonetto Ma dai Tonetto Sarebbe troppo facile dire Roma Però non ricordo altre squadre In cui ho giocato C'è o meglio Ce ne sono ovviamente Però non le ricordo io Non ricordo proprio La carriera Dico Roma Ma non Anzi no Non l'ho detto Non ho mai detto nulla Se vuoi ti posso dare un'altra faccia Bravo Io ho sentito Ti dico Roma Aspetta No no Aspetta Aspetta Non puoi dire nulla Perché vuole un'altra faccia Federico Ti faccio vedere Marco Cassetti A me continua A stare Cioè la Roma è troppo banale Sto provando a ricordare Altre squadre In cui hanno giocato questi due E ce n'è una Nello specifico Non mi viene il nome Secondo me Pre Roma Ti ricordo che Se vuoi puoi dire Roma Se vuoi puoi dire altre cose Se vuoi puoi avere altre facce Fino alla fine Altra faccia Un'altra faccia Mirko Vucinic Vabbè ti dico Roma Ti faccio vedere Sarà sbagliato È troppo banale Ti faccio vedere la quarta faccia Che è Graziano Pellè Che non ha mai giocato nella Roma Quindi sbagliato Menzo Tocca a te Per un punto Eh quella squadrazza La in Cina Ma come si chiama Io non mi ricordo Non mi sembra che Vucinic Sia andato fin là No no Vucinic Vucinic Ha chiuso in Arabia A me viene Viene in realtà Un'altra squadra ancora Ma Non credo di poterlo dire comunque Non puoi dirlo Cioè magari te lo chiedo Per zero punti Ma adesso devi rispondere Menzo Non mi ricordo Le rispondo col quasi Menzo c'è ancora 25 secondi Tu mi stai mettendo Una squadra dove Pellè ha fatto Non so I giovanili O qualcosa di genere Ti dico Lecce È Lecce È Lecce È Lecce È Lecce Bravo 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 Quanti punti ho fatto Uno C'è tutte le facce Andiamo Mi senti dietro Fede Mi senti Eh Dietro al culo È tipo È tipo Inter Roma Ma secondo me Meritava il parecchio Comunque diciamo che Su Vucinic Poteva aiutare tanto In Lecce Secondo me Poi gli altri due Ci hanno giocato E va bene così Subito prossimo pack Per lei Scusami Per lei Perché sono un po' Per lei quando c'ha giocato Che non me lo ricordo Secondo me inizio carriera Inizio carriera Pellessi Ci ha giocato Prima dell'europeo Prima prima dell'europeo Nella tranche precedente Prima praticamente Ha giocato È uscito dalla cantera Del Lecce Tra mille virgolette Ma ha fatto La cantera del Lecce Ma ha fatto Catania Lecce Crotone Cesena Eccetera eccetera Come ho fatto a non pensare Alla cantera del Lecce L'anno scorso Lecce primavera ha vinto il campionato Ecco Vedi Vedi La cantera del Lecce La cantera del Spagna Però va bene lo stesso Ma perché Rispetto Quindi l'Inter Quindi l'Inter Se quest'anno ha vincuto Non si vuol dire Ha fatto il triplette Bisogna dire Che ha fatto tripletta Che ha fatto la tripletta Ha fatto tripletta Prossimo pack Tocca a Menzo Ve lo faccio vedere Immediatamente L'Ikstein Che pack L'Ikstein Che vuoi? Ti do un'altra faccina? Un'altra Un'altra faccina Adil Rami Rami Madonna Perché io non mi ricordo Da chi ha preso la Juventus L'Ikstein Io sì Però non è quella squadra Dai l'ultima faccia Poi rispondo Terza faccia che ti do A Aubameyang Marsiglia Allora perché dici Marsiglia Per curiosità Perché io mi ricordo Vabbè Aubameyang A parte che c'è la maglia del Marsiglia E me lo ricordo bene Alla Marsiglia Io mi ricordo Rami Che era Io non ricordo Se è andato al Marsiglia Dopo Milan Pre Milan Non me lo ricordo Però al Marsiglia Si è giocato Ne sono certo E L'Ikstein era al Marsiglia Che non mi piace Per niente Non ricordo Se abbia mai giocato in Franza Non ricordo Magari c'è partito dalla Marsiglia Però non me lo ricordo Appena ho visto Aubameyang Io il Marsiglia L'avevo già pensato a Rami Appena ho visto Aubameyang Mi sono tuffato Almeno faccio qualche punto in più Se è giusto Allora guarda Faccio della quarta faccia Che è Hazard Però ti dico che non è il Marsiglia Porca troia merdosa Fede Per un punto Su Hazard Mi hai distrutto Allora forse Eh Cazzo Oh scusate Tipo Oh cazzo Ho detto cazzo Aspetta Dobbiamo stare tutti molto calmi Eh sì Fai ragionanti dal tavoce Tanto lui non può più far punti Guarda Ero abbastanza d'accordo Con il Marsiglia Perché Ricordo un passato di Rami Ricordo un presente Di Aubameyang Non ricordavo L'Istainer Avrei detto Lazio Che è la squadra da qui Lo prende la Juve Madonna Però su Hazard Adesso io non posso Non ricordare La carriera di Hazard Però in qualche modo Allora E 20 secondi Hazard ha toccato Ha toccato il suo prime al Chelsea Aubameyang al Chelsea Non lo ricordo Ma neanche gli altri due Però avendo 20 secondi Ti dico Chelsea Così per il meme Ok Ma scrivi una cosa Simo Vai Anche se Dimmi Non dire Ma è il Lille È il Lille È il Lille È il Lille Ammiaggia la miseria Comunque Che balle Simo Che devo dirti Perché Qual è il problema Non va bene Marsiglia Ma infatti Vabbè Dovamo trasformare La loro camere Io non credo Non so se si ha giocato A Marsiglia Però vabbè No non credo Comunque Ha giocato a Lille Poteva anche giocare Ma vabbè Davvero Un passaggio Da pure fare Prossimo pack Pack 3 per Federico Lucio Lucio Inter 300 squadre No scusa Ho risposto Inter Volevo dire Juve Vuoi dire Juve Sì perché il mio ragionamento Era è troppo banale l'Inter Ti dico Juve Perché Lucio La Juve Non se lo ricorda nessuno Ma ci ha giocato Allora guardi Facci vedere il secondo gioco Di questo pack Vabbè a parte che ha indovinato Dimmi cosa vuoi dire Menzo Ha chiuso la carriera lì no Sì ma non è Chiusa Formalmente sì Sì ma non è la Juve ragazzi Ha sbagliato Lucio e Milik Vai Menzo Dammi un'altra faccia Sì Vidal Ma Milik Che merda Uno che mi verrebbe a dire Madonna Mamma mia Fili proprio Bayer Leverkusen Eh lo sai pure secondo me Faccio vedere la quarta faccia Avers È Bayer Leverkusen Giusto È Bayer Leverkusen Che cosa Hai fatto due punti Quindi 5 a 3 Che cosa vi ricordavate Di Leverkusen Di questi giocatori Allora Io ti posso dire La Juve lo prende Da Leverkusen Lucio Mi sembra che fosse Leverkusen Prima di andare all'Inter O comunque Era Leverkusen Quando spiorò il titolo In Germania Inizio anni 2000 Mi pare Quindi Quindi ricordavo Queste due cose Ma le ho maturate Tipo un istante Prima Lo dicesse lui Non ricordavo minimamente Milik Su Avers Ovviamente sì Io per un attimo Avevo pensato All'Ajax Che è stata una delle prime squadre Dove Milik è cresciuto Forse calcisticamente Dove si è fatto conoscere Sì 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 Però allo stesso tempo Non mi sembrava Di ricordare Un Vidal Con la maglia Dell'Ajax Allora mi sono provato A rimmaginare Un Vidal giovane E mi è venuto in mente Con la maglia Dell'Everkusen Poi dopo Ho collegato gli altri Sai cosa Sai cosa Non avete minimamente pensato Che però in realtà Milik non ci ha giocato Però sia mai Cioè non si sa mai Poteva anche essere Bayer Monaco Nel senso Il Lucio è giocato al Bayern È arrivato proprio dal Bayern All'Inter Vidal ha giocato al Bayern Milik non ci ha mai giocato Però insomma Non penso Sapevate anche di Leverkusen Quindi No Però A logica Più che Bayer Monaco E Bayer Leverkusen Che potevo Immaginare prima Non ci ho pensato Al Monaco Ci sta Torniamo Adesso Nel pack 4 Di Menzo Quanto stiamo? Siamo 5-3 Per Federico Marconi E si parte da Marco Abbiati Io Ma perché non mi metti Sigurgerson Del Nord Shopping Cioè io non capisco Nord Shopping Nord Shopping Perché Non volevo dire Nord Shopping Perché poi mi dicono Ma come cazzo lo leggi Invece No 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 È la pronuncia Eh lo so Perché probabilmente Se ti avessi messo Quel tipo che hai detto Tu del Nord Shopping L'avrei messo Con la maglia del Bodo Klimt Che non sapevi Che ci ha fatto una presenza Nel 2004 No Viene dallo Stjarnan Viene dallo Stjarnan Sigurgerson Attenzione Vabbè Io comunque C'erano un cazzo Però ti ho messo Abbiati Tutto un'altra faccia To Cerci Livorno Spari Livorno? Ma che ne so sì Ti faccio vedere la terza faccia Che è Fernando Torres Che dubito fortemente Abbiaggato nel Livorno Allora Federico Nella cantera Dirà il suo nome E sbaglierà No dai scherzo Vai No non lo so Sto scherzando Dai non lo so Avrei detto Milan Dici Milan quindi Che peccato Ma avrei potuto chiedere un'altra faccia Fermo 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 Perché avrei detto Milan Avrei detto Milan Non ho detto Avrei Avrei detto Però è anche vero Che tu sei un pezzo di merda Eh bravo Io ti ci vedo Ti ci vedo Proprio di risera Mentre prepari ste cose Dirlo dai Cerci è andato nel calcio Che conta una volta È andato a giocare All'Atletico Madrid Squadra che ha lanciato Dove è anche chiuso Il nigno Torres Non ricordo minimamente Gli abbiati all'Atletico Però non ti dico Milan Rischiando un errore clamoroso A porta vuota Da zero metri Ti dico Atletico Ti faccio vedere la quarta faccia Che è a Tiago Motta Ed è giusto Atletico Madrid Bravo Coraggioso Coraggioso Personalità Bravo Bravo Sette punti a tre Attenzione Attenzione Adesso Il pack di Federico però Bravo Fede comunque Bravo E si parte da lui Essien Mamma mia Essien Essien Seconda faccia 15 I brividi Alla visione di Belfodil Belfodil Lo dico Essien Belfodil C'è una squadra Della quale C'è una squadra Della quale hanno giocato Essien e Belfodil Io non voglio sapere Non mi interessa A indovinare Vuoi la terza faccia? C'è una squadra In cui hanno giocato Essien Belfodil E Fabio Grosso Boh I brividi Veramente Real Madrid Dici Real Madrid Ma che dico Real Madrid Sì la dico Non la so minimamente Mi piace immaginarli Tutti e tre a Real È sbagliato Ma credo che Fabio Grosso Nemmeno abbiamo giocato A Real Madrid Tra le altre cose Eh beh ma lo so Vi faccio vedere La quarta faccia Che è Juli Vai Menzo Lione Ma che cazzo È Juli anche Non me lo ricordo Dici Lione? Dici Lione? Sì È Lione È Lione È Lione È Lione È Lione Vabbè Grosso Lo ricordate a Lione? No sì sì assolutamente Per quello che Dopo il mondiale Ho detto Lione Mica per Juli Non ricordavo nulla Io di queste Di queste quattro Ma io dico Io e Sien Vabbè raga Diciamo che all'inizio Io ho un po' mischiato Perché qua Belfodile lo ricordo Più all'Inter Sien al Milan Grosso alla Juve E all'Inter Però diciamo che ci sia Belfodile lo ricordo al Parma Pure al Parma Sì esatto E Juli alla Roma È venuto in Italia Immagini la risposta Non ci ha giocato Esatto vabbè Juli alla Roma Però sarebbe stato divertente Ve lo ricordo al Parma Ma non ci ha giocato al Parma No ci ha giocato Un sacco Tornava Andava Sava più al Parma Che da altre parti Allora Siamo 7-4 per Federico Manca un pacco a testa Si parte da mezzo Attenzione Che dira È bastardo che dira È bastardo Perché Ce le è fatte tutte Ce le è fatte tutte E non solo le top Siamo così È uno che si accontentava Basta che infilava No ci sta Mi sarebbe piaciuto Per la sua carriera Dammi un'altra faccia Molinaro Io Juventus Allora ti dico Dici Juve Ti faccio vedere La terza faccia Camorranesi E ti dico Che Juve è sbagliato Vabbè Vabbè Non lo sapevo Fede Allora 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 Non può Io non accetterò Più una partecipazione Sai mi manca Mi manca una squadra Di che dira Perché poi ovvio Che in questi casi Deba andare un attimo A ritroso Sulla sua carriera In questo momento La squadra che mi viene in mente È Bayern Monaco Ok Però ho Ho dei dubbi Al riguardo Tutti su Molinaro Quindi Andrò Nel dubbio Sul Bayern Monaco Perché non me ne vengono In mente altre E questa cosa È molto esilarante Perché ti faccio vedere La quarta faccia Che è Mario Gomez E ti dico Che è sbagliato Non è Bayern Monaco Lo immaginavo Mi fa ridere Perché mi dite sempre Ma è Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Stocca a mezzo Però per un punto Volsburg Ti dico che è sbagliato Marconi può fare zero punti Però dai dillo È Stoccarda È Stoccarda Ragazzi Hanno già tutte e quattro Allo Stoccarda Mannaggia tutto La potevo chiudere Avrei detto anche altre squadre tedesche Non mi ricordavo Quanto stiamo? 7-4 per Federico Ma l'attaccante Si ha giocato nel Volsburg Ho avuto un abbaglio clamoroso No non credo Gomez non ha giocato nel Volsburg No era Stoccarda Hai pensato a Volsburg Perché Lo sai chi ci ha giocato nel Volsburg? No neanche lui Nel Verder Brema ha giocato Claudio Pizarro Però Ultimo pack Si parte da Federico Quindi Menzo non può vincere Allora se Può fareggiare Esatto Esatto Cigarini Pensavo fosse Marchizza Pensate Dammi la seconda Conco Dammi la terza Perotti Genoa C'è la quarta Che è Luis Fabiano E ti dico che è sbagliato Genoa Menzo Luis Fabiano Chi è quello in alto a essere Conco Conco Io mi voglio mettere a piano No Ma perché io Io mi ricordo di due Io mi ricordo di Sta gente che È con la maglia del Milan Ancora dieci secondi Però Cigarini E Perotti Me li ricordo con la maglia Del Del Cagliari Però non mi ricordo Conco Ma conco Di una squadra 3 2 1 Di una squadra Menzo Ti ho sbagliata Fede cosa volevi dire Io avrei detto Siviglia E era Siviglia Ed era Siviglia Sarei stato molto bravo Hai indovinato E tre da zero punti Pazzesco Sono Ho detto che Oggi avrei fatto La tripletta Però ero convinto Di sconfitte Invece L'ho fatta di zero punti Ma va bene lo stesso Ringraziamento a mezzo Trovo Ad abbracciarlo forte A dirgli Ti capisco Troppo sono situazioni Guarda Per fortuna che sono andato avanti Nel Tiki Takatoe Almeno Io proprio Manco per sbaglio Per fortuna che sono andato avanti Dopo è stato un delirio Dopo è stato un delirio Bene così Tiro Tornando a questa sfida Io Cigarini Cigarini con la maglia di Siviglia Proprio Ma non lo ricordo minimamente Nemmeno conco Però sai Gli ultimi due Sì Ma però ti sei giocato nel Milan No No Ma nemmeno Luis Fabiano Secondo me ti eri confuso Ma credo che nessuno di questi quattro Abbiamo giocato nel Milan Ma come Cigarini Non ha giocato nel Milan Lui non lo so Cigarini era il Napoli Cigarini ha fatto il Napoli Mamma mia ragazzi Ha fatto l'Atalanta La Samp La testa quando ci va oltre i 25 anni È un disastro È un disastro Sì Non sono d'accordo Perché se ci avessero chiesto Averma Bill Avremmo risposto Non cadice Mammi Tilland Quindi Insomma Se avessero chiesto Non so Luke Castagnosa Avremmo detto Tuente Non Inter Ma lì ti dico meno Personalmente Però Insomma Ho fatto un feiner Non lo so Vuoi essere interessante Allora io Ma va bene Io dico a Menzo Bravo Ci vediamo al prossimo torneo E invece Finisce 7 a 4 Dico a Federico Bravo Ci vediamo al prossimo turno Mi fa stavo dire a Federico Ci vediamo al prossimo turno Grazie Quando esce questo video? A gennaio Allora ciao ragazzi 7 a 4 7 a 4 comunque Diciamo che Ho visto risultati peggiori Posso dirlo Sì Anche io Ma sì Guarda Fino alla fine Potevi ancora riprenderla Alla fine è stata Molto molto equilibrata E poi io dico sempre a tutti Che questo torneo qua Secondo me è il più tosto Di tutte e tre Secondo me è proprio il più difficile Cioè A differenza degli altri Dove devi fare Devi ricordarti una cosa Cioè vedi una carriera Ricordi la carriera Ricordi la carriera Vedi un incocio Ricordi l'incocio Qui ogni volta ti sconvolgono Con la faccia nuova Cambia tutto Però ti dico una cosa Ma è anche molta fortuna Perché Se avessi iniziato io Al primo Al primo pack Se avessi iniziato io Era un casino Perché? Perché Non l'avrei indovinata E io Non so se ho fatto punti Là Forse no Però Ho fatto punti alla seconda Che era molto più semplice Quindi Dipende anche Io ragazzi vi ringrazio Per aver preso parte a questo video Vi ricordo che qui sotto in descrizione Trovate entrambi i canali Di tutti e due i contendenti Quindi dateci un'occhiata Ci vediamo molto presto Nuovo contenuto Bosh la lalla E ciao a tutti